Buonasera a tutti, a breve seguirà la performance di Daniele Urgo in Art Dan e Angela Di Tommaso in Art IPTO. Il titolo del progetto è Rem Riot e nasce dalla collaborazione tra i due artisti nella costante ricerca dell'esperienza tecnologica, visiva, interattiva e multimediale. Angela si forma verso l'Accademia di Pogliatti di Frusinone e le sue esperienze artistiche e professionali vanno da performance e installazioni audiovisual a produzione di corti e videoclip musicali come freelance e anche in collaborazione con differenti artisti del panorama italiano e internazionale. Mentre Daniele è laureato in scenografia e nuove tecnologie dell'arte e io sono l'Accademia di Pogliatti di Brera e utilizza diversi campi dell'arte digitale dall'illustrazione a video alle performance di laser painting sperimentando poi fusioni tra le varie tecniche e ricercando sempre nuove soluzioni artistiche. La performance consisterà attraverso un mixer video, due computer e un unico video e quindi due forme d'arte che si intrecciano tra loro rappresentando anche la forza delle nuove tecnologie e della sperimentazione. I due artisti utilizzano quindi il confronto tra il laser painting e il bigging per creare una forza d'arte del tutto innovativa cioè la creazione di immagini in tempo reale attraverso la mediazione tecnologica e in sincronia con la musica elettronica e la musica d'ambiente. Entrambi quindi presenteranno una performance quanta di luci ed effetti visivi creati con laser e offrendo quindi al pubblico delle immagini evocative, dei volti, forme astratte e geometriche, discorci urbani e surreali che richiamano delle narrazioni oniriche che evocano quindi allegoricamente in confronto con la realtà. Quindi diciamo che tutto si lega poi alla conferenza perché ci troviamo di fronte ad una rappresentazione estressionista che attraverso le nuove tecnologie rappresenta l'inquennia e lo sguardo giovanile sul paesaggio urbano. Quindi vogliamo di una voce. Grazie. 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 Interessata questa cosa, quindi... Eh, quindi, niente, abbiamo pensato tutto a una sorta di narrazione legata... Te l'hai suggerito a te che l'hanno in tutto? Sì, io. Sì. Ma noi ci vorremmo una cosa, perché con il bisogno io... Ma avete una buona sacra che spiega a tutti? Ma io non ho vero, ma... Però, non c'è il significato che immagino, ma... No, no, il significato è sicuramente... No, no, perché... Appoggiate un attimo se lo secco, mi sono purtroppo... Grazie a tutti.